Per quanto noi si spiega ai genitori che la diagnosi di artrite idiopatica genanile è una diagnosi particolarmente preoccupante, si tratta comunque di una malattia cronica e tutti i genitori sanno benissimo che una malattia cronica dura nel tempo, i bambini devono fare delle terapie, alcune di queste terapie sono iniettive sottocutane, alcune sempre di meno vanno fatte in dovena, quindi vuol dire visite frequenti in ospedale comunque, devono comunque sottoporsi a visite e ad esami del sangue, noi cerchiamo di snellire il più possibile i protocolli di controllo, però un pochino di medicalizzazione di questi bambini inevitabilmente esiste, alcuni bambini hanno delle fasi in cui hanno delle difficoltà proprio fisiche in relazione alla rigidità articolare, alla zopia, al dolore che può essere presente anche se non è mai la manifestazione principale, in queste situazioni è certamente necessario avere un approccio olistico al bambino e alla famiglia e non basta dare medicine, bisogna avere dei colloqui importanti fra i medici e la famiglia in maniera che sia chiaro qual è il percorso e qual è l'obiettivo e soprattutto fornire al bambino e alla famiglia il supporto psicologico che è utile, talvolta necessario, ma comunque utile per affrontare al meglio una situazione che nella sta grande maggioranza dei casi, come dicevo, è transitoria, perché è una fase, seppur lunga, ma una fase e poi il bambino raggiunge la malattia clinicamente inattiva, quindi comunque in una situazione diversa, in alcuni casi quando diciamo la sta grande maggioranza non sono tutti, c'è sempre qualche bambino in cui si incontrano difficoltà particolari e questi hanno necessità di avere un supporto psicologico.